Sracusa Polizia denuncia titolare di un locale per avere somministrato alcolici a un minore di 15 anni. Continuano i controlli a cura degli agenti della divisione Polizia Amministrativa e Sociale nei confronti di locali notturni nel centro storico Aretuseo. Durante le numerose verifiche effettuate, i poliziotti dell'amministrativa hanno denunciato il titolare di un esercizio pubblico di Ortigia per avere somministrato bevande alcoliche a un minore di 15 anni. Inoltre sono state elevate altre tre sanzioni per irregolarità amministrative. In specie due locali avevano organizzato un evento musicale non autorizzato e il titolare di un pub aveva somministrato alcol a un giovane di 17 anni. Infine, nel corso di ulteriori controlli effettuati unitamente al personale dell'ARPA sono stati rilevanti i decibel della musica diffusa in alcuni locali al fine di verificarne il rispetto delle norme vigenti. Invece, nel corso della stessa giornata, gli uomini dell'amministrativa hanno effettuato verifiche circa la sussistenza dei requisiti di coloro che hanno un titolo per la detenzione di armi riscontrando in due circostanze delle irregolarità. Sono stati acquisiti due fucile e una pistola, peraltro consegnati spontaneamente dagli interessati che hanno rinunciato alla detenzione. Durante i controlli esperiti negli esercizi commerciali adibiti alla vendita di preziosi, infine è stata elevata una sanzione di oltre 3.000 euro al titolare di un negozio privo della prevista licenza rilasciata dal questore.